Stop al Valzer dei numeri sui nuovi positivi a Modica. A parlare il sindaco di Modica, Ignazio Abate, dopo aver letto negli ultimi giorni troppe inesattezze e per chiarire la situazione una volta per tutte ai cittadini, a loro volta spiaziati dalle notizie anche contrastanti che leggono. Ho deciso di comunicare, afferma Abate, ufficialmente i dati che ci fornisce quotidianamente l'ASP in merito all'emergenza Covid nel nostro territorio. Un'operazione di trasparenza necessaria che con cadenza settimanale ripeteremo per sgomberare il campo da ogni perplessità, conclude il primo cittadino modicano. Ad oggi, 9 agosto, nessun ricoverato al maggiore, mentre risultano in quarantena 61 soggetti. Di questi solo tre sono risultati positivi. Sono due ragazze ed un ragazzo. Sette sono provenienti dai paesi esteri, 51 hanno avuto contatti con soggetti positivi. La stragrande maggioranza è formata da giovani e giovanissimi. Tutti sono soggetti a controlli da parte di personale qualificato per verificare il rispetto dell'obbligo di quarantena. Molti di loro si trovano in quarantena, nonostante, per fortuna, siano già risultati negativi ai primi tamponi. Non bisogna mai abbassare la guardia, in particolar modo tra i giovani, che devono fare un atto di responsabilità anche nei confronti delle proprie famiglie e delle persone anziane. Però non bisogna neanche essere catastrofici e pensare subito al peggio. Come sempre, gli eccessi non vanno bene. I numeri sono questi, non sono altissimi, ma neanche da sottovalutare. Dal canto nostro ribadiamo quello che abbiamo stabilito nei giorni scorsi. Obbligo di mascherina anche al di fuori delle attività commerciali, distanziamento, spiagge chiuse nelle notti più calde del 10 e del 14 agosto e senso civico che non dovrebbe mai mancare, in special modo quando andiamo a visitare i nostri cari ospiti nelle case di riposo, per i quali è stata prolungata la validità della circolare promulgata lo scorso mese di giugno, nella quale si specificano le modalità di visita.